Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. In A11 fino alle 10 di oggi chiusa per lavori la rampa di accesso di Sesto Fiorentino in direzione Pisa. In FIPILI per lavori di ripristino della pavimentazione stradale fino alle 10 di oggi chiusura della rampa di uscita in direzione Stagno con provenienza sia da Livorno sia da Firenze. Per le statali sulla Trebbis Tiberina a riduzione di carreggiata per incidente al chilometro 133,50 a San Sepolcro Sud in direzione Viterbo Terni. Per la viabilità cittadina a Firenze per un allaccio alla rete idrica e restringimento di carreggiata in via di Brozzi fino al 20 marzo. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!